Noi al venerdì dividiamo tutta la merce che va destinata ai vari enti, distribuiamo ai vari enti la pasta piuttosto che il riso, che l'olio, è una fase molto importante perché ad ognuno viene consegnata la merce in relazione alle persone che assiste. Questo è il lavoro che noi facciamo il venerdì assieme a un bel gruppo di volontari pensionati che vengono qua a darci una mano, una trentina circa, e poi per preparare tutta la merce che al sabato tutti gli enti vengono a ritirare presso il banco qui di Parola. Vengo qui al banco come volontario dal 2013, svolgo tutta l'attività di stoccaggio del magazzino tramite il muletto e scaricare i camion dei aiuti che arrivano, della GEA piuttosto che di altri enti che consegnano la merce. È un qualcosa che mi fa sentire bene anche personalmente dare l'opera per chi ha più bisogno di noi.